Adesso stiamo andando al cesso per andare a dipingere le pareti insieme ai ragazzi del cesso. È un po' strano, andare così in giro sembra di fare una scampagnata, non sempre di stare in Africa. È diventata familiare quindi? Sì, sì, mai. Il primo giorno è stato brutto, la prima sera, perché dopo il viaggio stancante, dopo due giorni che non dormivi, però... La cosa più difficile appena sei arrivata? Ma un po' tutta la situazione, poi già dalla mattina dopo, tranquillo sicuramente. Una parola sui bambini di Bati? Sono stupendi, sono bellissimi. E si divertono subito con poco, imparano le canzoni così, velocemente, ed è bello. Adesso il primo è campozza, pensione, 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 pensione. Martina Questa è la prima pennellata Un gesto importante Il senso di questo continuo aiuto E scambio con possibilità Adesso 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 Adessere Adesso 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 In Il lavoro provoca una gratificazione personale, dunque la gioia di rendersi utile e soprattutto anche dimostrare che possiamo con poche risorse, anche con una buona volontà, fare grandi cose. Secondo me, prima della cooperazione, del significato della cooperazione internazionale e nel gemellaggio, c'è questa gratificazione e c'è questa solidarietà tra i ragazzi che lavorano insieme. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!